Hanno fatto un po' di manfrì, il governo del cambiamento che cos'era? Il governo PD 5 Stelle non è vero, non già boccate, non è vero, non è mai stata fatta questa proposta, sono andati dai grillini perché per carità in quei giorni non capivano niente perché erano appena entrati in Parlamento ancora non hanno imparato dove sono le stanze delle commissioni, del resto non deve essere facile aggirarsi in quei meandri popolati da quei marpioni, comunque nei primi giorni certamente non hanno dato il meglio di sé e sono andati con un programma già scritto, gli otto punti, a chiedergli qualche voto per far partire il governo monocolore PD Vendola che aveva già i ministri fissati e questi che avevano fatto la campagna elettorale contro il centro-destra e contro il centro-sinistra se avrebbero dovuto dare a scatola chiusa il voto a un governo dove loro non potevano mettere il becco né nel programma né nei ministri, ma dico ma è la proposta che uno non può rifiutare o è l'unica proposta che devi rifiutare? gli hanno fatto l'unica proposta che non potevano accettare pena essere linciati dai loro elettori rileggetevi quegli otto punti, non c'era niente sul TAV, c'erano dei farfugliamenti sul finanziamento dei partiti non c'era nemmeno la parola abolizione ma soprattutto c'era la parola web e wifi spalmata un po' ogni tanto scrivevano virgola wifi virgola dice così quelli vedono wifi e ci cascano e intanto mentre dicevano di volere il governo del cambiamento facevano scouting scouting vuol dire scilipoti vuol dire comprarsi singole persone elette con uno schieramento per portarle dall'altra parte solo che quando lo fa scilipoti è compravendita dei voti e quando lo fanno gli uomini di Bersani con gli uomini di Grillo si chiama scouting certo non è un bel modo di cominciare il dialogo cercare di comprare qualcuno per rendere inutili tutti gli altri